Eccoci con le principali scadenze della prossima settimana. Domenica 24 e lunedì 25 novembre sono le date ultime per svolgere nelle scuole le votazioni per il rinnovo dei consigli di circolo ed istituto scaduti per decorso triennio o per ogni altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive. Il 25 novembre è il termine per le scuole per aderire a Sport in classe, il progetto realizzato per diffondere l'educazione fisica e l'attività motoria nella scuola primaria. Sempre il 25 novembre le scuole interessate possono aderire al concorso I giovani ricordano la Shoah. Segnalo infine due scadenze del 30 novembre. Una riguarda il programma annuale, scadenza che può essere prorogata fino a un massimo di 30 giorni in caso di motivate ed occumentabili difficoltà. L'altra riguarda invece gli esami di Stato del secondo ciclo e infatti il termine di presentazione delle domande da parte degli alunni dell'ultima classe in qualità di candidati interni e candidati esterni. Arrivederci alla prossima settimana!